Ce l'ho qua, ce l'ho in testa e davanti ai miei occhi la fotografia, l'immagine è nitida e ha colori E qual è? Il rigore, il rigore, Osimian sbaglia, Cesni, Para, tre giocatori con la maglia azzurra che partono dietro e si mangiano Quella che un tempo veniva chiamata muraglia bianconera, che non è più tale, che non è più tale, che non è più tale Perché in quell'episodio là ci vede un po' la linea di demarcazione tra un Napoli che cerca in qualche modo di riaffacciarsi E questo è un risultato ragazzi veramente, veramente di slancio per i partenopei Perché la stagione forse proprio prima di oggi diciamo, forse proprio prima di questo Napoli-Juventus La stagione del Napoli era praticamente catastrofica, invece adesso può avere dei connotati diversi Perché ti puoi rilanciare sia in campionato, perché il quinto posto che ci auguriamo che sia valido per la postazione Champions Non è poi così lontanissimo, soprattutto se pensiamo che fino all'altro giorno parlavamo di una squadra che era al nono decimo posto E poi c'è la Champions, perché in vista della partita col Barcellona, una gara del genere Ragazzi ti compatta, ti dà, dopo i 6 gol col Sassuolo vinci ancora una volta al Maradona Ancora una volta al Maradona A una rivale storica come la Juventus, gli dici no, a casa mia perdi Ragazzi, questo sposta ti può veramente dare un senso a una stagione che finora di senso ne aveva veramente poco Dall'altro lato, una Juventus che in quell'episodio là che citavo prima Sono dovuto partire da quello proprio perché in quell'episodio non vedo la Juventus di Allegri Cioè la Juventus di Allegri, se c'era un aspetto in cui eccelleva è proprio quel sacrificio Il fatto di farsi trovare puntuali, attenti e se c'era da fare una rincorsa in più Se c'era da arrivare prima degli altri, non solo nella fattispecie Ma proprio metaforicamente ci arrivava prima degli altri Ci arrivava con la grinta, con la voglia, con l'unione, con la compattezza che aveva ritrovato In questo non si vede più, non si vede, nonostante, attenzione, non prendiamoci in giro Oggi una partita che ha offerto, per lo spettatore oggi si sente appagato Perché ha visto una partita, secondo me, specialmente nel primo tempo Proprio con intensità frenetica, occasioni su occasioni La Juventus ne ha avute tantissime nitide Il Napoli un po' meno, ma quando si affacciava dava l'idea comunque di poter essere pericoloso E' un evento anche poco cinica Invece prima era spietata, una, due azioni, un gol Oggi 5-6 palle clamorose 5-6 palle gol clamorose E segna invece, grazie alla giocata individuale di un giocatore che per me è fenomenale Fenomenale, discutiamo tutti, ma discutiamo tutti sì Ma non discutiamo Federico Chiesa Che poi basta metterlo nel suo ruolo Per farlo sentire a proprio agio E per fargli sgasare i suoi migliori colpi Ecco, non è che ci vuole chissà che cosa Basta farlo giocare dove sta a proprio agio E l'abbiamo visto cosa poi succede fuori Cosa ti tira fuori dal cilindro Riparto dal Napoli Poi parlo anche della event Se Napoli si deve aggrappare tantissimo a questa partita Ci sono tanti aspetti indubbiamente da migliorare Non prendiamoci in giro Dietro il Napoli resta quasi un colapasta Per una forza eccessiva come termine Ma voglio essere crudo proprio per inquadrare il problema Perché il Napoli dietro soffre troppo Oggi una squadra leggermente più cinica Iniziava ad andare sotto E la partita magari acquisisce connotate diverse E poi ti viene meno Anche mentalmente Ancora una volta Se devi vedere la partita sempre in salita Sempre uno scoglio Si fa fatica Il fardello diventa maggiore E tu ci arrivi sempre stanco all'appuntamento Invece non è andata così Però dietro bisogna lavorare meglio Deve lavorarci Non lo so Calzona E' anche una questione di giocatori individuali Ecco onestamente Se non prendo le marcature Se il centrocampo alcune volte non fa filtro Ecco sul centrocampo non fa filtro Ci si può invece Ci si può magari lavorare Però Cosa mi è piaciuto del Napoli L'ho detto prima La voglia di andarla a vincere E l'aspetto lì sul rigore E' semplificativo da questo punto di vista E mi è piaciuto il fatto che Non voglio fare confronti con la passata stagione Ma a sprazzi A sprazzi Quella gestione di palla L'abbiamo vista Nel secondo tempo il Napoli ha fatto 75% di possesso palla E' una squadra che l'ha gestita anche bene Per gran parte del secondo tempo L'ha gestita proprio bene la gara E soprattutto mi è piaciuto forse anche l'ingresso di Zielinski Che ha dato Aggiunto Oggi non è stato Soporifero E quindi Fa girare meglio la palla Lo bottica meglio E questo secondo me perché Come dicevo prima Inizia a prendere fiducia Una fiducia che si era proprio Sgretolata Si era proprio dissipata Invece inizia Inizia a prendere fiducia E questo può essere Come dicevo prima Un punto di partenza Perché la stagione Non è finita La stagione La stagione la puoi salvare Portando a casa Questo posto Champions Che è difficile E' difficile Perché nonostante la vittoria di oggi Il Napoli Deve fare Deve fare ancora meglio Vi dico che può E deve fare ancora meglio Della partita Di oggi Ma Ma come dicevo Per una questione di classifica Non è proibitiva E quindi Si giocherà le sue carte E poi c'è la Champions Ragazzi Che è una competizione Abbastanza importante Quindi Se ci arriva In questo Se si gioca La stagione Con le proprie armi E soprattutto Unita Compatta Con Osimene Con Kvara Che ritrova Smalto Che trova gol Che adesso magari Accompagnato da Osimene Non sente appunto Sulle spalle Tutto il carico Della squadra Questo Questo può Poggiovare E possiamo vedere Un Napoli Che ripeto Può dare un senso Alla stagione E me lo auguro Me lo auguro Perché l'anno scorso Questi ci hanno fatto Veramente Tanto Divertire E io sono sempre Dalla parte del calcio E Sono sempre Sono sempre Riconoscente al calcio Per cui Il Napoli ha fatto calcio E mi auguro Che possa in qualche modo Riproporlo Per quanto riguarda La Juve E E' mancata E' mancata La La pietà Sotto E' mancato Vlauvić Ecco se proprio Vogliamo parlare Parlare chiaro Perché Vlauvić ha avuto Non è che è mancato Nel gioco Vlauvić c'era E' stato presente Ha fatto anche Delle cose Ottime La giocata Che Che Gli permette Di prendere il palo Va in profondità Attacca la profondità A poco angolo Tocco sotto Bella giocata Lì prende vale Sfortunato Ma lì Aveva poco angolo Lì è stato molto bravo Così come Secondo me Anche sulla prima occasione È stato molto bravo Nel colpire di testa Non era facile Indirizzarla Verso la porta E lui ci è andato Anche vicino Quella che non deve sbagliare È la terza occasione Quella che Gliela passa Non mi ricordo Meret la dà A chi Traorei Traorei Che si addormenta Locatelli La ruba Palla che arriva Blauc Lì quantomeno Deve beccare la porta Lì deve essere cattivo Lì deve essere L'attaccante Che punisce Perché poi Un gol del genere Sposta Senso un volete dubbio Sposta Anche nel secondo tempo Ha avuto delle situazioni All'eventus Ha avuto anche altre Quella di Cambiaso Lo stesso Alkeraz Che poco prima Doveva far meglio Lì è uno stop semplice Non lo puoi sbagliare A questi livelli E quindi L'eventus Deve arrammaricarsi Per le tante occasioni Anche nel finale Quando poi Ha di nuovo alzato Un po' i giri Del motore Tutti avanti Ha buttato dentro Ha avuto dentro Dal calcio d'angolo Un'altra occasione Clamorosa Un altro paio Di occasioni Clamorosa Prima il tiro ribattuto Poi Rugani Che non riesce A ribadire dentro Quindi l'eventus Oggi Senza Crabbiò Senza McKenney Dal punto di vista Del calcio espresso Non è che Sono qui a dire Ha fatto male Secondo me Ha fatto male sottoporta E Ha fatto male In una situazione Che dicevo prima In rigore In una situazione Dove invece Era maestra Prima Arrivava sempre Prima degli altri Se c'erano cose In cui l'eventus Non sbagliava Erano questi aspetti Correre più degli altri Sacrificarsi Per il proprio compagno Compatti Chiusi Anche brutti Dannatamente brutti Ma tosti E invece non vedo più Una squadra tosta Vedo una squadra che Quando l'attacchi È fragile Una squadra che Si sgreda Una squadra che Si è persa Da questo Da questo punto di vista E lo dice anche La classifica Onestamente Lo dico Negli ultimi risultati L'eventus Nell'ultime sei partite Non ha vinto una Se non Se non vado errato Sono dei numeri Scabrosi Se mi permettete Quindi Deve ritrovarsi Da questo Da questo punto di vista E Niente C'è anche da dire Che La stagione è un po' andata Nel senso che Ormai L'eventus Non sarà risucchiata dietro Anche se il secondo posto Secondo me Deve essere Un obiettivo Ma la verità È che l'eventus Finché vedeva l'Inter vicino Ci ha provato Ha dato il mille per mille Appena Ha visto che Non Non aveva quel passo Si è scantata Ecco Questa per me È un po' La sintesi In questo deve essere bravo Deve essere bravo Allegri Che nelle scelte Anche oggi Nelle scelte Le scelte Dicono che Ha buttato dentro Il ragazzo Che ha procurato il rigore Una partita così delicata Forse Facile dirlo Col senno del poi Però Uno che Alla seconda Alla seconda Presenza In A Forse una gara così delicata Forse Anche se Ripeto Aveva tante assenze A centrocampo Però forse Magari no No Poi lo levi subito Lo proprio distrugge Il giocatore Quindi anche nelle scelte È un Allegri Che si Poi Appena messo Qua Cioè Poi Basta fare le cose semplici 4-3 Aveva trovato il pari Perché Chiesa Chiesa se lo mette Cioè Chiesa Ancora Cioè Io non Non ho parole Nel senso che Chiesa deve giocare esterno Ragazzi Anche se gioca Nel 4-4-2 Come lo volete chiamare voi Che gioca Affiancando la punta Chiesa se ne va sempre largo Alla fine ragazzi Come ha fatto Lì dove si beve Di Lorenzo Va sempre largo Perché Non è un attaccante Cioè Non è un centrale C'è poco C'è poco da fare Va bene signori Fatemi sapere Cosa ne pensate voi Commentate la carta Se volete iscrivetevi al canale Un grande abbraccio Te reschio Ciao 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 Ciao